C'è l'allenatore che decide chi giocherà, noi lavoriamo sempre, ogni giorno nei allenamenti per metterlo in difficoltà e poi sarà lui quello che decide che entrerà in campo. Siamo tutti contenti perché siamo riusciti a prendere tre punti, un campo non facile. Secondo te gli ultimi minuti di difficoltà sono due di più a una questione psicologica, cioè l'attesa per la prima vittoria o proprio la condizione fisica che negli ultimi minuti erano? No, non si può parlare di condizione fisica perché avevamo un avvantaggio minimo e secondo me l'abbiamo gestito bene fino alla fine. Ok, grazie.